Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di liberazione. O Signore, Tu sei grande, Tu sei Dio, Tu sei Padre. Noi Ti preghiamo per l'intercessione con l'aiuto degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele perché i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno, dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Dall'odio, dalla fornicazione, dalla invidia, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Dai pensieri di gerosia, di rabbia, di morte, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Da ogni pensiero di suicidio e aborto, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Da ogni forma di sessualità cattiva, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Da ogni forma di malefizio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occulto, Noi Ti preghiamo, liberaci, O Signore. Preghiamo, O Signore che hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, per l'intercessione della Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della Tua pace. Per Cristo nostro Signore. O Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a Te che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa di Satana, noi chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti, perché al Tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. Amen. Cuore divino di Gesù, io Ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, e la gloria del Divino Padre. Amen. Noscum prolepia, benedicat Virgo Maria.